Misurazioni, piantine, botola di qualcoscenico, sonnifero, vestito di scena... Dobbiamo proprio consegnarlo questo rapporto al signor prefetto? Volete abusare della nostra pazienza? Con queste premesse come potete chiedere una nuova ispezione alla banca? Ma lo avete cercato il maniaco religioso? Ma che siete scivoliti? Io volevo ammazzare la giura e salvare a Cristo! Ma che arriva in tentazione? Un'ora di femmina vintedio! Ficcava un pizzicchiorno! Ma perché non mi volete chiedere? Oh! Zitto! Che dice che non lo capisco? Qui l'animale, senza offesa, dice che per tre giorni ha ficcato Avete capito cosa significa ficcato? Esatto! Per tre giorni consecutivi! Quindi non ha potuto salvare il Cristo dal Giuda! Come andate a scendere la bottana con gli uccini? Dove sta questa bottana? Non mi capisco, chiedeteglielo voi! Animale! Dove sta questa bottana? Ah! Scendendo le ragioni! E' uguale! C'è una tiziera! Una casa! E raggine già fuori! Puzzata! Vedeva! 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 Ci vedeva tutte cose! Scendendo le cose! Ci vedeva! Ci vedeva! Magari! Vedeva! E' tutto un pochino di pila! Che pareva un lupo mannaro! E' come arrivato! Magari mi spagnato! Ha peccato con me pecciglione, pecciglione ha peccato con me. Un animale sarebbe stato più giudicato e più pulito. Mi aveva urlato, scazzate le signore, tutta la casa. La mia casa scazzate le signore, mi aveva abbrassato. E c'è una pausa. Solo per cagare qui fuori, qui. Ogni pezzo di schulzo scazzate le signore, con un ucceco, con un uccello, 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 con un uccello e con un uccello. Se ne vogliono schiaffiare, io qui, se schiaffiare, magari io... Gentilissima signora, vi ringraziamo, noi ce ne andiamo. Che cosa? Tutto, fuorché questa bruciare per lento fuoco. O se lo preferite, questo lento affondare in paludosa mella. Un risponso quale sia, almen servirebbe a imporre la mordacchia in chi trae nutricamento dal quotidian mendacio e spargendo in verso me, e per pura avversione politica, per pura avversione politica, un maleolente nidore. Vi reitero il mio confidente grazie. Punto. Ho scritto. Proprio ieri sono riuscito a dissuadere in eccellenza il ministro dal promuovere un'ispezione nella questura di Montelusa che voi egregiamente presiedete. Voi, in momenti come questi, non dovete patire preoccupazione alcuna. la tua scuola mi ha persociato. No, per la sua scuola mi ha persociato. No, per la sua scuola mi ha persociato il nostro corpo. No, per la sua scuola mi ha persociato,